Chi ha in squadra? Alcuni vecchi amici Eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di Call of Duty ragazzi secondo video informativo proprio giornaliero perché ci sono delle notizie molto molto importanti riportate da The Gaming Revolution colui che conferma al 100% l'arrivo della Battle Royale di cui si sta parlando e stiamo parlando tantissimo in questi giorni andate a recuperare il video di questa mattina perché sono trapelati i primi schizzi di quella che sembrerebbe essere la mappa appunto della Battle Royale Bene The Gaming Revolution tramite un nuovo video praticamente allicato quelle che sembrerebbe essere le killer streak di Call of Duty Model Warfare avete capito bene le killer streak perché sembrerebbe ormai essere confermato che le ricompense le otterremo in base alle uccisioni che otterremo e non ai punti che ovviamente faremo durante la partita esempio stupido se non otteniamo 5 piastrine in uccisione confermata potremmo già lanciare una serie mentre con le kill streak se non facciamo neanche una kill non potremo ottenere nessuna ricompensa andiamo a vedere quelle più interessanti innanzitutto ha confermato che non ci sarà una minimappa come diceva Victor se vi ricordate nel mese di maggio su quei post su Twitter che poi stranamente sono stati rimossi quindi ci sarà una sorta di UAV che vi permetterà praticamente di attivare la mappa e si parla addirittura di un altro UAV per l'intero team e addirittura di un UAV avanzato quindi una sorta di Visat tra virgolette perché si parla soltanto di Advanced UAV staremo a vedere il funzionamento ma sicuramente potrebbe essere una delle serie più interessanti e che abbiamo sempre amata all'interno del gioco ci sarà una torretta schermata ci sarà ovviamente il lancio degli approvvigionamenti immancabili all'interno di ogni serie di Call of Duty e anche un drone si parla addirittura del Missile Predator che prenderà il nome all'interno di questo gioco di Missile Cruise ovviamente ragazzi molti di questi nomi potrebbero essere cambiati strada facendo si parla anche di un Airstruck Precision si parla addirittura di un Chopper Gunner che dovrebbe essere una sorta di Pavlo e poi si parla addirittura del VTOL chiudiamo con le due sicuramente più interessanti il Juggernaut quindi potrebbe andare a confermare che quell'immagine che abbiamo visto quando sono stati mostrati due prime screen del gioco era un'immagine di una serie praticamente delle killstreak di Modern Warfare il tizio con il Juggernaut e la mitragliatrice fissa e sembra confermata la nuke 25 kill che porteranno al termine della partita queste ragazzi le indiscrizioni più importanti sempre riportate da The Gaming Revolution fra pochi minuti 13.30 su Twitch ne parleremo del nuovo appuntamento del TG Code ma voi ovviamente passate ad iscrivervi anche sul canale di Telegram link in descrizione perché lì riportiamo in tempo reale tutte le notizie di Call of Duty e noi ci vediamo ad un prossimo video Grazie a tutti